Buongiorno al neoconsigliere regionale Sergio Gatti. Buongiorno. La sua elezione a consigliere regionale è stata definita dalla stampa un capolavoro. Dopo tanti anni assente dalla politica, ben 11 anni circa, e in un momento anche non facile per Forza Italia, perché Fermi è passato da Forza Italia alla Lega e Veronelli ad Azione, ha rischiato improprio, sì perché se andava male, andava male anche per lei, parlando politicamente, e invece ha avuto un successo notevole. Se l'aspettava? In realtà io ho lavorato per molti anni a Como, prima come consigliere comunale, poi presidente del consiglio, poi soprattutto assessore, e quindi penso che il frutto del lavoro sia rimasto e le persone se ne siano ricordate. Quindi sulla base di questo ho rischiato, ma è stata una scommessa divertente, anche perché se non c'è quel minimo di indecisione, di indeterminatezza, quindi anche un po' di rischio, diventa meno affascinante la sfida. Lei è conosciuto come l'inventore delle grandi mostre a Como e ha impostato anche la sua campagna elettorale sulla cultura, cosa che non sempre fanno i vari candidati. È molto importante la cultura all'interno della provincia di Como, ma non solo? Le mostre sono state un'operazione, nove anni, un milione di visitatori, credo la più grande operazione culturale che la città abbia avuto negli ultimi decenni assolutamente. Ed è stata anche l'inizio del turismo, Como è cominciata a entrare nel circuito della notorietà internazionale dal 2004, quindi molti anni fa. I frutti che anche oggi si colgono in qualche misura, credo che derivino anche da quella stagione. Per quanto riguarda la cultura, io sono convinto che sia la vera emergenza nazionale, il tema del futuro, è un qualcosa che riguarda tutti e non è semplicemente questione di mostre, di libri, di concerti, di teatro. No, la cultura è un'infrastruttura strategica per qualsiasi attività. Noi in Italia, soprattutto in questo territorio, qualsiasi cosa facciamo, dagli artigiani, agli imprenditori, ai commercianti, a chiunque, se non hanno una quantità intrinseca di cultura all'interno della loro produzione, della loro vita, rischiano di essere meno competitivi. Quindi io penso che la sfida della competitività si giochi sulla cultura in maniera strategica e sempre di più per il futuro, quindi più il tempo passa, più avremo bisogno di vedere le cose secondo un'ottica culturale. E c'è bisogno di cultura, perché guardando anche nel nostro paese, quando vengono organizzati gli incontri, anche le gite culturali, c'è sempre il pianone e questo è molto positivo, vero? Beh, questa è la nostra identità in Italia, si passeggia nella cultura, basta vedere dove siamo ed è assolutamente un'eredità del passato, ma che diventa fondamentale. Ed è quello che gli stranieri invidiano, è quello che rende unico il nostro paese, quindi non utilizzarlo è veramente miope. Anche e soprattutto, come dicevo, dal punto di vista imprenditoriale, nel senso che la cultura genera ricchezza, con la cultura si mangia e come, per parafrasare quella sfortunata frase che fu detta molti anni fa, con la cultura non si mangia. No, no, è esattamente il contrario, torno a dire, si mangia ma in maniera stellata, si mangia da chef. E con la cultura anche il turismo. Penso che siano questi due canali su cui lei punterà come consigliere regionale. Il turismo per Como è fondamentale. Beh, ma non è tanto una mia idea, è l'ovvietà del guardarci attorno, nel senso che il futuro si gioca in questi settori in maniera prevalente. È chiaro che non si cancella null'altro, ma far sì che questi aspetti non ci siano non ha veramente senso. Lo sviluppo, certamente per il territorio comasco, in chiave turistica, è uno sviluppo che vediamo tutti e che in futuro potrà solo aumentare, perché oramai questa zona è diventata magnetica, agli occhi soprattutto degli internazionali e dei visitatori stranieri. È il posto dove tutti vogliono essere, dove tutti vogliono andare e che quindi dobbiamo ovviamente sfruttare, ma sempre in modo intelligente, sempre in modo consapevole e quindi sempre in modo colto, che non è una questione astratta, insisto su questo tema perché ci credo davvero, cioè è un approccio nuovo che potrà anche rivoluzionare la politica, ne sono convinto. In modo intelligente, ma come? Ecco, concretamente. Molto semplice, con la conoscenza. La questione vera è che senza competenze certificate, senza esperienza concreta e reale, non si va da nessuna parte, e la politica lo ha dimostrato in modo drammatico. Per avere operazioni dirigenziali che riguardano una comunità, ci vuole un curriculum serio, strutturato, come quello che in una qualsiasi azienda un imprenditore prenderebbe in considerazione per assumere nuovi collaboratori. Cioè ci vogliono competenze specifiche. Senza le competenze, insisto nel dire, non si va da nessuna parte. Quella aberrazione folle dei tempi dei Cinque Stelle, che uno vale uno, è la più grossa stupidità che sia stata detta sul piano, prima culturale e poi di conseguenza politico. La differenza la fanno e come le persone, altro che uno vale uno. Sicuramente. Noi siamo qui in Piazza Cavour e siamo qui davanti alle paratie. Si parla che finalmente nel 2024 finiranno i lavori. Lei ci crede? Ma non c'è dubbio, perché la conclusione dei lavori è esclusivamente una competenza regionale. Quindi non ci sono altri enti che possano rivendicare questo risultato. Il cantiere oramai è assolutamente avviato e quindi si concluderà. Tra l'altro, anche con quello che sarà il risultato finale, molti scettici dei tempi passati dovranno ricredersi, perché oggettivamente questa è stata una grande operazione di riqualificazione, che potrà aver avuto tutte le difficoltà che conosciamo, ma che adesso è arrivata al punto finale. E ribadisco, grazie esclusivamente alla Regione Lombardia, il cantiere sarà terminato. Anche il suo impegno penso che in questi due anni sarà rivolto verso i lavori da concludere qui, dalle paratie. E sarà un lungolago completamente diverso, finalmente. È chiaro che io sono l'ultimo arrivato, quindi se c'è una cosa che non amo è quella di cercare di attribuire meriti che non ho. Quindi adesso arrivo in Regione e da questo momento in poi mi occuperò, tra gli altri temi, anche di questo in maniera determinante. È vero che la storia parte da lontano, come abbiamo detto, e quindi i meriti e l'idea, e comunque alla fine il progetto complessivo, sono di chi lo ha voluto all'epoca, pur con tutte le difficoltà, ma i risultati saranno sicuramente superiori alle pur legittime, ai pur tanti intoppi e intralci che abbiamo avuto. Oggi credo che quando il cantiere sarà completato, sarà veramente un nuovo punto di inizio. Sappiamo che lei è stato ricevuto da Silvio Berlusconi. Che cosa le ha detto? E come avete programmato assieme questi cinque anni? Il Presidente ha ricevuto i neo eletti, noi siamo in sei di Forza Italia, nuovi nel Consiglio regionale, ci ha fatto ovviamente le congratulazioni, il buon lavoro, e abbiamo parlato del nostro impegno futuro, della necessità di un gruppo come Forza Italia all'interno della compagine del centrodestra, perché siamo assolutamente determinanti. D'altra parte i numeri oggi sono diversi da ieri, ma alla fine noi siamo stati i primi a superare il 30%, quindi non siamo per nulla così preoccupati da numeri oggi diversi, perché conosciamo il nostro valore. Bene, ma i suoi elettori di Como che cosa le chiedono? Espressamente, votando lei, che cosa volevano votare? Beh, volevano sicuramente votare un impegno culturale, perché questo è ciò che mi ha caratterizzato, questo è quello che la gente mi chiede passeggiando per la strada, questo è quello che ho fatto, quindi si basano su una questione molto concreta, che è il lavoro che è stato oggettivamente realizzato. E sulla base di questo, quindi, credo, spero, mi chiedano un approccio, che come dicevamo, è un approccio probabilmente un po' diverso, poco tradizionale, sicuramente non visto in passato, ma è un approccio del quale io mi fido molto e sono convinto che porterà risultati. Lei è già stato nel palazzo della Regione, qual è stato l'impatto? Ma in realtà abbiamo fatto solo una primissima riunione proprio per guardarci in faccia, io non avevo mai sostanzialmente frequentato prima... Eppure come assessore? No, no, infatti la cosa sembra strana, sembra strana a molti, però in realtà no, non avevo avuto modo fisicamente, chiaramente ero stato al Pirellone per questioni culturali, per le tante mostre che hanno organizzato, però senza quella frequenza legata a... Alla politica? No, 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 quello per niente, quello sarà un nuovo futuro da domani in poi. Benissimo, tanti auguri allora. Grazie, grazie mille.